La procura di Enna ha chiuso l'indagine ed è pronta a chiedere il rinvia giudizio di 17 persone coinvolte in una vasta frode fiscale messe in piedi, secondo l'accusa, tramite la certificazione di falsi crediti IVA per un milione e mezzo di euro. Gli avvisi di chiusura delle indagini sono stati notificati nei giorni scorsi agli indagati. Nel corso dell'inchiesta, ribattezzata Ghost Credit, in inglese credito fantasma, sono stati sequestrati beni di varia natura e somme di denaro per oltre un milione e duecentomila euro. Tutto è partito dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza di Enna sull'attività di un commercialista della provincia ennese, il quale è accusato di avere certificato falsamente crediti d'imposta per un milione e cinquecentomila euro, originati da un'impresa edile per dei lavori mai eseguiti. Tali crediti d'imposta, secondo l'accusa, sono stati in seguito commercializzati da una società di servizi ennese in favore di 47 imprenditori che, pagandoli il 30% del loro valore, hanno così potuto compensare irregolarmente i propri debiti nei confronti dello Stato. Dagli accertamenti è emerso che la rete di imprenditori intermediari e professionistico involti nella vicenda era ramificata non solo in Sicilia, ma anche in Lombardia, Emilia-Romagna e Liguria, dove avevano sede alcune delle imprese in questione, nei confronti delle quali scatteranno ora le sanzioni previste dalla legge.